In questo video, domani faremo una partita insieme a voi, a Fortnite, e se non volete giocare va bene, però lasciate un bel mi piace e lasciate un bel canale. Adesso voglio buttare giù quei cosi. Cos'è che butti giù? Facci vedere cosa c'è là un attimo, dai vieni e dimmi cosa c'è, descrivimi cosa c'è là. No, 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 tu parla, io ti filmo, vai, dimmi. Questo, un puppet di Minecraft. Sì. Dei Lego con dei cosatini. Sì. E non dobbiamo farlo capire, sennò si spaventa. Ok. Una, che capra, come si dice con la cosa? Zebra. Zebra. Se ritiriamo un colpo in bocca, non vedremo lo stesso, tanto lo prendiamo e poi c'è una ruota. Ok, e il cano di Papatroll. Il cano di Papatroll l'ho già detto. Ok, vai Lìa, vediamo se riesci a buttarli giù. Mi ha buttato giù più che voglio. Vai, stai lì, così, perfetto. Per un pelo. E vai, c'è il cecchino, c'è il cecchino di Fortnite. Ragazzi, quando qualcuno mi cecchina da lontano, è lui. Allora, a volte. Ma sapete che il cecchino di Fortnite è la mia arma preferita. Offrite colpi, ragazzi. Grazie. Grazie.